gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia se l'obiettivo di renzi non è quello di trovare un accordo per qualche poltrona come conte sta pensando di fare un faccia a faccia con renzi per giocare a cante scoperte dirgli beh cosa vuoi ti voleremmo dare un bel ministero qualche sottosegretario in più ecco ma se non fosse così che renzi punta più in alto vuole di più vuole proprio mandare a casa conte per eliminarlo politicamente e non avere più un concorrente nelle prossime elezioni almeno lui spera che poi conte non si ripresenti in politica dopo magari due anni di pausa con un governo draghi è così renzi se non se dovesse essere questo suo obiettivo il premier non è intenzionato a farsi da parte insomma renzi sta durante nel mezzo della pandemia sta facendo tutti i giochini di potere personale è incredibile ma vero il pd non ci sta e non ci starebbe nemmeno il movimento 5 stelle spiega un dem al governo se renzi pensa di trascinarci verso una crisi al buio sperando che il parlamento trovi la soluzione non ha capito nulla zingaretti vede il voto come una liberazione in effetti zingaretti sempre ha voluto andare al voto sempre il suo partito praticamente non ha perso nulla in un anno l'anno scorso era al 20,3 adesso è al 20,2 capite che i sondaggi sono solo sondaggi dire 20,3 20,2 vuol dire che il suo partito è rimasto in pari anzi 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 ha guadagnato perché e ci sono state due scissioni calenda che ha formato azione che ha un 3 per cento e renzi che ha formato italia viva con un altro 3 per cento c'è un 6 per cento se voi fate la somma tra pd azione e italia viva arriva a un 26 per cento quindi non ha solamente mantenuto i voti zingaretti ma li ha aumentati notevolmente senza fare assolutamente nulla solo stando lì al governo in maniera pressoché passiva ma non era non è vero passiva perché alla fine ha comandato zingaretti per tutto questo tempo non è vero che ha comandato conte ha comandato zingaretti anche se lui non è nel governo e quindi zingaretti vede il voto come una liberazione ecco questa è la realtà lui è sempre voluto andare al voto perché ha sempre visto questo periodo attuale crisi economica sociale e sanitaria come un qualcosa che potreva distruggere il suo partito nelle intenzioni di voto e quindi lui è per andare a votare anche perché se si va a votare prima che conte faccia il suo partito lui evita che gran parte del suo elettorato si possa spostare in un partito di conte un partito di centro ecco si dice che un suo partito alcuni sondaggi venga dato tra il 15 e il 20 per cento vorrebbe dire che andrebbe a togliere la metà dei voti al pd la metà dei voti ai 5 stelle i 5 stelle diventerebbero un partito del 7 per cento e il pd un partito del 10 per cento ecco probabilmente diventerebbe il primo partito del del centro centro sinistra proprio quello di conte ed è per questo che zingaretti vede il voto come una liberazione una liberazione da questa catena no beh forse forse un blef ma d'altronde il pd pensano che a blefare sia proprio renzi e sperano che il rottamatore non trovando sponde per defenestrare conte possa accontentarsi di qualche poltrona no di governo martina maurizio l'ex segretario del pd l'ex ministro dice non escludere a priori l'ipotesi del rimpasto la riorganizzazione della squadra non sarebbe né una sconfitta né una vittoria ed eviterebbe una alla maggioranza di frantumarsi in un passaggio fondamentale per l'italia con il virus che morde i 209 miliardi di fondi europei che aspettano di essere investiti beh io realmente preferirei che questi fondi non vengano investiti da questo governo secondo me non è un governo che ha la capacità la visione per poter gestire questi 209 miliardi quindi c'è poi l'ipotesi che possa essere un dem del calibro di dario franceschini a salire a prendere il posto di giuseppe conte martina su news 24 esclude staffetti dice il lavoro del premier è stato prezioso e cruciale e credo dice che lo sarà anche in prospettiva rimpasto dunque la voce più insistente allo carenze alla farnesina e di maio all'interno anche se l'ex segretario del pd non ha mai detto di voler entrare al governo ma lui non dice ma fa capire la sua tesi riservata è che l'eghe esecutivo va rafforzato politicamente o convincendo conte ad accettare due vice o facendo entrare i leader dei partiti zingaretti orlando e renzi appunto come ministri il leader di italia viva scoprirà le carte solo nel prossimo consiglio dei ministri quando si capirà se le due ministri lasciano o no teresa bellanova durante il vertice sul covid ha fatto uscire critiche durissime sulla gestione dell'emergenza e questo non è un segnale di tregua ma qualche ora dopo marielena boschi al tg4 ha frenato dicendo che italia viva non vuole la crisi di governo e che la soluzione nelle mani di conte il rimpasto appunto con ettore rosato e la boschi già nel toto ministri ecco quindi boschi rosato e renzi ministri del governo e tutto questo secondo voi è per il recovery fund la governance è tutto quello che dice renzi in questi giorni no semplicemente è per dei posti da ministro tutto quello che ha detto fino adesso anche corretto sul recovery fund che non funziona sulle vaccinazioni che non c'è un programma tutto quello che adesso ha detto che è giusto è un mezzo per raggiungere le poltrone non il fine a lui realmente che il recovery fund non vada bene non gliene può fregar di meno a lui interessa solo il suo potere personale che l'italia poi vada a gambe all'aria che gliene frega a lui come a tanti politici non gliene fregano proprio non gliene frega proprio nulla di questo vedremo nel prossimo consiglio dei ministri che dovrebbe essere il 6 o il 7 se renzi ritirerà questi ministri o non li ritirerà o dirà che cosa potrebbe dire guardate conte ha capito gli errori ha fatto infatti se ci fate conte renzi comincia a dire la delega dei servizi a non mi interessa non ne parliamo più a non ne parliamo più se per te era la cosa fondamentale adesso non ne parliamo più quel non ne parliamo più potrebbe indicare proprio che è pronto a dire abe conte ha accettato tutto alla delega a ma quella non importa fai noi ci fidiamo di lui ecco vedremo quello che succederà io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio a tutti vi ringrazio e vi ringrazio a tutti